C'è Montevago che di fisico difende la posizione e poi allarga a memoria sulla destra per lo scatto di D'Andrea che può entrare in area di rigore. D'Andrea, D'Andrea sul destro! D'Andrea si propone, va a puntare ancora il suo diretto avversario. D'Andrea, cross con il destro, asa di testa in crocia! Palla di ritorno, il giocatore del Sassuolo che si coordina, guarda in mezzo! E Pagano se lo divora! Cercare di accompagnare con un po' più di prontezza le azioni di Montevago che sta sistematicamente sfondando. Palla per lui! Girata di prima intenzione sul carriere di Amatucci. Ancora Amatucci dalla bandierina, deviazione di testa! E Terracciano la sblocca al quinto tentativo. Filippo Terracciano per il vantaggio Italia al minuto 41. Palla che arriva verso il secondo palo, cade a terra un giocatore della Polonia, si insiste, con il tentativo! Fuori di un nulla! Ci attenirei la pallone in campo, poi il cross! Montevago allunga lo scarpino! Kovalzik sfrutta l'ultimo lavoro da parte di Maizziak. Si apre una voragine! Occhio all'opportunità! Si salva alla grandissima Palmisani! Neugebauer dà la bandierina! Traiettoria ad uscire! Stacco! E dopo 4.30 di recupero, per il direttore di gara può bastare così! Seconda vittoria consecutiva per l'Italia Under 20! Grazie a tutti!